Tutti invece pensano che ci sono da sempre i russi e poi sono venuti gli altri. In realtà, ecco, quello che io volevo far notare è che la differenziazione in comunità linguistiche, certo pure lì è iniziata prima, però fino al Settecento di fatto non c'era, perché non c'era nemmeno il russo. Io sfido chiunque a leggere un romanzo russo scritto prima del Settecento, in fine Settecento, in realtà dell'inizio Ottocento. C'è la lingua russa come lingua letteraria, quella che tutti abbiamo amato. La cosa straordinaria è che è una lingua nuova che dà quella grande letteratura su. Quindi la lingua russa si cristallizza da una base comune, specialmente quella scritta, molto tardi, con sette, ottocento anni di ritardo rispetto a noi. L'Ucraino si cristallizza a metà dell'Ottocento con Shemchenko, il loro poeta nazionale, quindi pochi decine di anni dopo. Quindi questa formalizzazione linguistica è molto tardi. Ma la coscienza che ci sia una differenza, che si stiano differenziando, è molto forte già a fine Ottocento. Se lei pensa che dopo la rivolta polacca del 1863 la prima cosa che fanno i russi, l'impero russo, è viettare l'ucraino, dichiarare l'ucraino un dialetto del russo. Questo fra l'altro è una cosa interessante perché spiega in parte perché nel Donbass il russo sia una lingua così solidamente conosciuta. Perché siccome il Donbass era un bacino industriale, ancora un bacino industriale, è stato il più grande bacino industriale dell'impero russo, quindi base di potenza dell'impero russo, con acciaierie, fabbriche, miniere, l'alfabetizzazione lì è stata fatta a fine Ottocento, quando l'Ucraina era un dialetto ed era vietato insegnarlo. Quindi i bambini ucraini che andavano a scuola, gli operai, eccetera, eccetera, si insegnava il russo. È come se Napoleone avesse vinto nel 1815, lei si ricorderà Ossano, avrà sentito che il Piemonte e la Toscana erano aggregati all'impero come dipartimenti francesi e avessero fatto l'alfabetizzazione in francese. Io credo che lì si parlerebbe francese, probabilmente, perché sono lingue abbastanza simili a seconda di come le alfabetizzano. Questo divieto dell'ucraino, che già segnalava quindi una forte paura di una differenziazione già in corso, quindi non parliamo del periodo sovietico, parliamo di 150 anni fa, è finita durante la rivoluzione del 1905, quando l'Accademia delle Scienze Russe ha dichiarato ufficialmente che l'Ucraina era una lingua autonoma e non un dialetto. Guardi che questo in Europa, allora, in cui l'indice di nazionalità, anche nei censimenti, era basato sulla lingua, negli imperi multinazionali, si chiedeva di che lingua sei per definire di che nazionalità sei, cioè la lingua era la bandiera della nazionalità, come si diceva, ma questo era vero anche in Italia. Quindi in realtà l'Ucraino è iniziato a essere insegnato liberamente, poco nel 1905, pochi anni prima dello scoppio della guerra e della guerra civile. E questo è interessante perché spiega l'odio di Putin per Lenin. Lenin garantisce ai popoli che accettano di fare parte di questo mondo russo, tra virgolette, per usare l'espressione putinusa, ma lui lo presenta come un mondo socialista, quindi come un mondo, se vuole, non nazionale, anazionale, di fare parte di questo mondo sovietico, quindi diciamo, gli garantisce lo sviluppo della nazionalità, facendo un'operazione, se vuole, antimarxista sicuramente. Pensi, pensi che Lenin in fondo è, insieme a Wilson, l'inventore dello slogan come dire, dritto dei popoli all'autodeterminazione, aggiungendoci fino alla separazione, lo scrive anche nella Costituzione, è la clausola che è stata usata nel 1991. E' questo nazionalcomunismo che cresce troppo grazie a queste misure che Stalin decide di distruggere nel 1932-1933 con la carestia. Però Stalin, contrariamente a Putin, dirà sempre Lenin aveva ragione, e se ci pensa, anche dopo aver distrutto i contadini, 4 milioni di morti, ne parliamo dopo l'Olodomor, ma anche le grandi purghe del 1933, contro gli intellettuali nazionalcomunisti, contro i dirigenti comunisti ucraini, Stalin non scioglie la Repubblica Ucraina. Anzi, la tiene e nel 1944-1945 diventa uno degli stati fondatori delle Nazioni Unite. Faccio presente che l'Italia non è uno stato fondatore delle Nazioni Unite, perché una delle cose ha fatto Stalin nel 1933, essendo Stalin un uomo sistematico, aveva perfino ritirato i dizionari e aveva fatto cambiare tutte le parole che avevano una radice non russa, le aveva fatte sostituire con vocaboli più simili al russo. La cosa era stata molto sistematica. Quindi l'Ucraino era stato russizzato nel 1933-1934. Il più grande focolaio di dissidenza ucraino negli anni Sessanta è la riscoperta dell'Ucraino, è la questione della lingua in Ucraina. Quindi questo processo di russificazione dolce, sia linguistico che etnico, va avanti, perché in Unione Sovietica il russo è una lingua vericolare. E quindi anche se io mi sento ucraino, poi se voglio fare carriera, vado a lavorare in Siberia, vado a lavorare in Asia Centrale, vado in un ministero a Mosca, faccio l'ufficiale dell'esercito, devo parlare russo. Un po' come noi con l'inglese oggi, da un certo punto di vista. Ma non è che se lei o io parliamo inglese ci sentiamo americani o inglesi. Da un lato c'è questa coscienza che gli ucraini dovrebbero parlare ucraino, che l'Ucraino è una lingua, viene fuori la coscienza, i poeti, molti di questi hanno un ruolo enorme nei movimenti dissidenti, poi nel RUC, il RUC è il movimento dissidente di fine anni Ottanta, allo stesso tempo in un paese che ormai è largamente russofono. Quindi uno si può sentire ucraino, amare l'ucraino, amare la lingua ucraina, parlare russo, cioè è una situazione molto molto interessante, che nell'Ucraino occidentale, quella conquistata dopo la seconda era mondiale, c'è un'intera chiesa, la chiesa Uniate, che sono gli ortodossi di obbedienza papale, erano stati vietati da Stalin alla fine della seconda vera mondiale, la chiesa era stata sciolta, aggregata alla chiesa ortodossa russa, è vissuta in clandestinità per 50 anni, è una chiesa con milioni di fedeli, con decine di migliaia di preti, suori che facevano le messe, la domenica, privatamente, in unione sovietica. Stalin ha costruito questo grande, diciamo, sistema concentrazionario, quello di cui parla Solgenizini in Arcipela Gugula, le grandi rivolte che scuotono questo sistema alla morte di Stalin sono tutte condotte da nazionalisti ucraini, da dirigenti ucraini, da militanti ucraini. Sicuramente c'è anche, e ripeto, ha un'importanza quasi uguale, invece questo successo di una russificazione che però è ingannevole, che porta, per esempio, Putin a credere che chi parla ucraino è russo, invece quello si sente ucraino lo stesso, anche se parla russo. Che la differenziazione, se uno dovesse formalizzare, inizia già a metà dell'Ottocento in maniera netta, c'era già prima a metà dell'Ottocento in netta sulla questione della lingua, è rallentata dal divieto dell'Ucraina. Cioè l'impero zarista fa una politica cosciente per fermare questa differenziazione, riesplode con la rivoluzione del Cinque, che poi durante la guerra civile acquista grande vigore, grazie alla soluzione di Lenin sovietica, viene repressa da Stalin, che però non pensa mai di eliminare, diciamo, la specificità ucraina, e risorge poi dagli anni 53, quando muore Stalin in poi, col disgelo, eccetera. Badate bene, questo vale anche per le altre nazionalità, le altre repubbliche, sia pure con strade diverse. Ma hanno una storia vera dentro il sistema sovietico. Ognuno di questi paesi ha una storia vera. La riscoperta addirittura del leninismo negli anni Sessanta, da parte dei dissidenti, che dicevano Lenin ci ha dato i diritti e Stalin ce l'ha tolti. Per cui all'inizio la dissidenza ucraina è leninista, paradossalmente. Alla domanda alla fine degli anni 90 agli abitanti del Donbass, vi sentite russi, ucraini o cosa rispondeva la massa? Sovietici. Non si sentivano russi. Putin vuole distruggere Lenin. Le sa che nelle Repubbliche Popolari del Donbass fanno le statue a Lenin, che avevano buttato giù, le rimettono in piedi. Cioè, c'è una cultura sovietica che è rimasta, sta finendo naturalmente, ma perché l'esperienza sovietica c'è stata per davvero. Però questo lo si capisce solo se si guarda la storia sovietica. Perché questo è un frutto della storia sovietica, non è un frutto... Perché il nazionalismo ucraino della guerra civile, che era socialista, tra l'altro, non era di destra, è diventato di destra negli anni 20 e 30 perché era stato sconfitto a Versailles, ma il nazionalismo ucraino del 18, 19, 20, 21, che era un nazionalismo tutto socialista, Petliur era socialista, Vinnisenko, i grandi dirigenti, nomi che magari non dicono niente, ma i grandi dirigenti del nazionalismo ucraino di allora erano tutti socialisti o socialdemocratici o socialisti rivoluzionari. Poi l'etno-nazionalismo ucraino diventa di destra negli anni 20 e 30, dopo le due sconfitte, tranne la parte che diventa nazionalcomunista e viene esterminata da Stalin. Però non c'è dubbio che in quel momento lì, il nazionalismo ucraino, torniamo alla normalità, è un nazionalismo etnolinguistico. Com'è quello italiano? Com'è quello di tutta l'Europa? Quello tedesco? Pensi al ruolo della lingua? Il problema è che l'esperienza sovietica rompe abbastanza questo schema e lo rompe dal punto di vista linguistico per i motivi che ho detto prima, perché il russo diventa una lingua picolare. Allora, per esempio, quando si pensa all'Ucraina degli anni 90, non ci sono ucrainofoni e russofoni, ci sono ucrainofoni che molto spesso conoscono benissimo, è russo scusi, ci sono un sacco di persone russofone che si sentono ucraine, conoscono male l'ucraino, però parlano russo ucrainizzato, un ucraino russificato, il cosiddetto surgik, diciamo una specie di creolo, non so come definirlo, e poi ci sono quelli che parlano solo russo, spesso a est e sud, ma non solo, a Kiev all'inizio, a Kiev era una città russofona quando ci si andava negli anni 90, ma anche dopo, che parlano russo, ma si sentono ucraini. Quindi il problema è, ecco, questa è una cosa che citerei molto, non si può ragionare di Ucraina negli anni 90 e dopo mettendo russofoni contro ucrainofoni, perché sennò non si capisce niente, perché prima di tutto in mezzo ci sono tutti quelli che parlano questo surgico, parlano questi dialetti, diciamo queste lingue un po' corrotte, oppure che fanno lo switch senza problemi da una lingua all'altra, ma sono loro che hanno deciso il futuro dell'Ucraina. Non sono né gli ucrainofoni, né i russofoni estremi, e fra i russofoni estremi, ricordo una cosa che ho detto prima, per esempio nel Donbass, ci sono molti che sono etnicamente ucraini, e lo sanno, ma che parlano russo da più generazioni, perché hanno iniziato a parlare russo a fine 800, quando l'Ucraina era vietato, li hanno alfabetizzati in russo. Ma noi sappiamo che anche Cavour e Vittorio Emanuele II scrivano in francese, mica scrivano in italiano le loro lettere, si vergognavano del loro italiano. È vero, in Europa il modello lingua-nazione è stato molto forte, molto forte anche in India, ma anche in Europa è pieno di eccezioni, ho fatto quella irlandese, questa Ucraina è enorme, ma nel mondo è un modello che non regge. Pensi a tutti i grandi stati africani, che fra un po' saranno gli stati più importanti numericamente del mondo, probabilmente una parte, in tutti i stati africani è normale avere 30 lingue, 25 lingue, tant'è vero che la lingua che parla nell'inglese o il francese, dalla Nigeria, la lingua ufficiale comune, veicolare, e quindi uno può parlare inglese, essere nigeriano e poi appartenere, non so se mi spiego, però ecco, una forma di eurocentrismo particolarmente dannosa è quella che dice l'esperienza lingua-nazione sia l'esperienza regolare del mondo, non lo è. Non c'è dubbio che magari questa guerra darà nuova linfa all'Ucraino, per ragioni di differenziazione, perché la storia funziona così, ci sono esperienze importanti che fanno prendere strade diverse, a posti diversi. Torniamo alle divergenze. Per esempio, io credo che Zelensky, che prima parlava russo, tranquillamente quasi sempre, il presidente adesso parla regolarmente e giustamente quasi sempre in ucraino, nel suo caso giustamente, io sono per la totale libertà linguistica, ma se tu non è il presidente deve parlare la lingua ufficiale. Allora, se lei pensa a quello che c'è dietro, perché parla del discorso russo, putiniano, il discorso è l'Ucraina è un falso Stato, io non gli dichiaro guerra perché non si può dichiarare guerra a uno Stato, con un falso popolo, gli ucraini, che pensano essere ucraini, ma in realtà sono russi e basta ricordarglielo e saranno felici per tutta la vita, anche perché parlano russo e chi parla russo è russo. E, diciamo così, questo falso Stato e questo falso popolo ci sono dei cattivi, qualche migliaio di cattivi nazisti, che li chiamiamo nazisti, così in Europa ci credono che noi siamo buoni, ma diciamo che in realtà sono quelli che poi negano questa affinità fra russi e ucraini, che noi li denazifichiamo, cioè li facciamo emigrare, li ammazziamo a seconda di quello che ci capita. Questa è la teoria con cui loro vanno in Ucraina nel febbraio di quest'anno. Sperando di essere ben accolti è che c'è una percentuale di persone da liquidare. Liquidare può voler dire sia fare emigrare che ammazzare. Se uno legge i primi due mesi, la realizzazione è che gli ucraini non ti vogliono, anche quelli che parlano russo, come dicono i miei amici russofoni ucraini, questo per difendere la lingua russa ha distrutto tutte le città russofone di Ucraina. Questo matto, no? Mariupol è una città completamente russofona, è stata rasa al suolo. Cioè, un'altra follia del nazionalismo, io voglio talmente bene ai russofoni che li rado al suolo. La scoperta del fatto che non erano poche migliaia di nazisti, tra virgolette, ma erano milioni di persone che non ti volevano. Ci sono questi documenti ancora di marzo, aprile, poi smettono, perché lo shock è totale, che dicono ma allora dobbiamo fare una denazificazione di massa e come facciamo a denazificare 20 milioni di persone? Fa vedere come davvero ci credevano. Dicevano, va bene, andiamo lì, ne ammazziamo un po', un po' li cacciamo, li facciamo migrare, scappano, un po' scappano, Ponti d'Orochi scappano e tutti ci accolgono. E poi ci accolgono e nessuno ti vuole. A me mi hanno raccontato storie di alti dirigenti del partito di Yanukovych, che era il filo russo, era la gente di Putin in Ucraina, scappato nel 14, ma importanti dirigenti a cui hanno telefonato la notte prima, dicendo arriviamo, preparate tutto. E questi hanno detto, scusate la mala parola, gli hanno risposto vaffanculo, traduco letteralmente, dove, arrivate dove? Non so come dire, sì, io sarò di Yanukov, ma perché arrivate? Cioè, c'è stato veramente lì un misreading, come dire, una lettura sbagliata della realtà, ideologizzata, fantastica. Da questo punto di vista questa è una guerra ideologica. Non è una guerra per interessi economici, questa è veramente una guerra ideologica e poi politica.